Una buona parte delle attività del Villa Pace Parco Hotel Bolognese è dedicata a determinati tipi di eventi, tra i quali i matrimoni che riteniamo un punto focale della nostra struttura grazie appunto agli spazi ristorativi, agli spazi esterni legati al giardino e alla piscina e altrettanto il fatto di essere posizionati in una via di alta percorrenza ma all'interno di un parco ci permette di essere una struttura molto richiesta nell'ambito del cicloturismo e noi per quello che ci compete abbiamo un parco di bici che comunque dedichiamo ai nostri ospiti che si vogliono muovere evitando l'utilizzo di macchine o di mezzi pubblici e soprattutto aspettiamo un gran numero di cicloturisti che viaggiano e scoprono il Veneto a mezzo bicicletta. Grazie mille!